E ora entriamo subito nel merito del primo spettacolo, del primo spettacolo di questa nostra puntata. È uno spettacolo che attendiamo da tempo, perché appunto sappiamo il valore che ci sta dietro. Il titolo è il caso W, punto, W come iniziale. Lo potremo vedere dal 7 novembre al 17, è una produzione del Metastasio. Lo spettacolo quindi andrà in scena per una decina di giorni, circa, sempre al Teatro Fabricone di Prato. E abbiamo con noi il regista dello spettacolo, Claudio Morganti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il caso W, punto, di Rita Frongia, che firma la drammaturgia. Claudio Morganti, la regia. In scena abbiamo Isadora Angelini, Gianluca Balducci, Gaetano Colella, Massimiliano Ferrari, Rita Frongia stessa, Claudio Morganti, Francesco Pennacchia, Luca Serrani, Gianluca Stetor e Paola Tintinelli. Quindi un gruppo veramente numeroso. Mi ricordo che tu hai guidato un gruppo così numeroso per il Metastasio di Prato, se non ricordo male, con il Riccardo Terzo. Può essere, vero? Sì, sì, beh, sono passati tantissimi anni, non mi ricordo neanche più. Però poi nel frattempo c'è stato anche Ombre, Ombre Vozze, che comunque era un lavoro su voi. Era Vozze, per quanto mi riguarda, no? Anche lì eravamo parecchi. Poi ho sempre lavorato da solo, in maniera piccola e serena, e adesso sono di nuovo nel caos più totale. Bene, allora il debutto ormai è prossimo, quindi noi ti cogliamo proprio in un momento molto importante. Allora, il caso W, possiamo dirlo che questo W, almeno come prima lettura per sciogliere l'enigma, è sicuramente Vozze. Sì. Almeno come primo livello, immagino che sia. Però diciamo che è un testo che non ha a che fare direttamente con il Vozze di Bückner. Diciamo così. Allora, così come Bückner si è ispirato al caso Johann Christian Wozze e Marie Wust per scrivere il suo Vozze e ha preso in considerazione il tempo che precede il delitto, l'omicidio, noi in qualche modo ci siamo riferiti allo stesso caso, prendendo in considerazione quel che è successo dopo. E cioè uno dei processi che ha avuto Johann Christian Wozze. Lui era già stato condannato a morte perché, re ho confesso, e però qualcuno è riuscito a far riaprire il caso con la questione della capacità di intendere e di volere. Diciamo, forse è stato il primo caso nella storia, erano gli anni in cui nasceva la psichiatria come scienza, no? E quindi è stato un processo, si direbbe oggi, mediatico. Tutti i giornali, in prima pagina, ne hanno parlato per giorni, giorni, giorni e giorni. Non se ne sono occupati intellettuali, avvocati psichiatri, eccetera. Ecco, noi abbiamo costruito un testo autonomo, di fantasia, guardando questo tipo di situazione. Ecco, di cosa era stato accusato e poi condannato Wojcik? L'omicidio di Marie, la sua compagna. Lui era un soldato semplice, da borghese ha fatto il barbiere, però poi ha cominciato ad avere dei problemi davvero gravi di natura mentale. Oltretutto era in una situazione di salute terribile, si sottoponeva a esperimenti da parte dei dottori della guarnigione, eccetera, eccetera. Tutto per riuscire a racimolare pochi spiccioli, faceva legna per il capitano, insomma, si alzava la mattina e andava a dormire la mattina. E correva in continuazione. Alla fine, voglio dire, poi tutto questo lo faceva perché provava a portare poi a Marie del denaro, quei pochi spiccioli, perché poi comunque lui aveva paura di perderla e quindi faceva di tutto. Ma poi c'è stato un tradimento e lui, una storia semplice, classica, e lui la uccise. Certo, questa storia che tu ci hai ricordato, appunto la storia del Wojciech di Buchner, un testo considerato una sorta di capolavoro dell'incompiuto anche, no? Perché è un testo che non è stato concluso, che è stato scritto da Buchner nel 1836-37, quindi sono anni particolarmente caldi, anche infuocati politicamente. È un testo di cui te ti sei occupato tante volte, è uno dei tuoi grandi testi, forse più che testo quasi archetipo, quasi no? Ma sì, perché poi più che altro, sì, quello è un emblema, è un emblema di tante cose, però più che altro quello che mi ha sempre in qualche modo guidato, diciamo, è proprio la figura di Buchner come uomo, come persona, come politico, diciamo, nel suo agire politico, come drammaturgo, come poeta, eccetera. E Wojciech è il suo testo emblematico. Ah, sì, il fascino dell'incompiuto, perché l'incompiuto sempre... Ci sono, per esempio, questi... Io ho un amico che si occupa di certi papiri, dei filosofi delle origini, e che va lì a spulciare queste cose dove si riesce a tradurre una parola su 25. E gli ho chiesto, ma cos'è più bello? Quello che puoi tradurre o quello che uno può immaginare e non può tradurre? E naturalmente c'è il fascino dell'opera che non è compiuta, è fortissimo. Guarda, non so, anche Michelangelo, guarda Pietà Rondanini, eccetera. Ma diciamo che, certo, a noi ci piace la cosa quando è finita, quando è finita, perché in qualche modo siamo sempre lì a cercare di fare la perfezione e il capolavoro. Ma un capolavoro è un po' come a teatro, no? È tutto imperdibile, è tutto sold out, è tutto un capolavoro. Ma non è vero, perché non è quasi mai sold out. È tutto perdibile, qualunque spettacolo si può perdere, e soprattutto i capolavori sono eventi epocali. Assolutamente. Beh, questa caratteristica appunto del Wojtzec di Buchner poi è stata esaltata, diciamo, nello scorso secolo. Insomma, alla fine il Wojtzec, sì, scritto nel 1836, ma sembra un testo novecentesco, nel senso che è stato sia messo in musica nella famosa opera di Berg, ma è diventato anche un testo di riferimento per tutto il nuovo teatro italiano in particolare. Io ho recuperato alcune frasi di Carlo Cecchi nel 1973, che diceva con il Wojtzec per la prima volta che acquista un povero acquista la nobiltà dell'eroe tragico e via di seguito, insomma, tante. Quindi proprio un cavallo di battaglia di un certo nuovo teatro italiano. Secondo te perché? Ma ascolta, io penso invece che Wojtzec sia abbastanza misconosciuto da noi. Sì, certo, tra teatranti lo si conosce, qualcuno gli va di farlo, ma diciamo che quello è davvero un capolavoro, è davvero una cosa che si dovrebbe in qualche modo considerare con la giusta grave leggerezza, insomma, perché non è un testo come gli altri. Poi questo è un pensiero personale, naturalmente puoi fare Wojtzec, Giovanna, come ti pare, no? Però non è proprio così. Wojtzec è un punto, è lì dove non si può non fare quel giro di Boa. È uno di quei capolavori intorno ai quali bisogna girare. Per esempio, non lo so, altri, aspettando Godot è un altro, ma poi in musica ce ne sono, ma c'è Cage. No, ci sono quelle cose che se tu fai il musicista, per esempio, non puoi non conoscere Mozart e Cage. Non puoi, no? Perché gli altri musicisti te sentono comporre e se ne accorgono che a te ti manca qualche cosa. Mentre invece in teatro, diciamo, si può anche fare a meno di tante cose. Ma ecco, Wojtzec non dovrebbe essere una delle tante cose, dovrebbe essere un punto fermo, che poi tu lo faccia o non lo faccia. Comunque dovrebbe essere un oggetto di studio costante, per quanto mi riguarda, lo è. E ripeto, non tanto Wojtzec quanto Buechner in generale. Però posso dire una cosa. Noi non facciamo Wojtzec. È chiaro. Adesso, siccome mi è già successo, che poi mi hanno detto, ma avete fatto degli errori di comunicazione. Questa volta non ne voglio fare. Questa volta è molto chiaro il fatto che si giri, come dicevi te, girare intorno a un'opera, ma crearne poi anche di nuovo. E qui la questione è proprio il caso. Il caso che tu citavi. Fra l'altro, appunto, tu citavi il processo. Il processo che è una questione teatralmente fondamentale, proprio nel senso che ha i fondamenti del teatro stesso. Ma è un gioco bellissimo, di scambio costante, veramente bello. Mi viene in mente, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sembra che fu proprio Edoardo a dire ai teatranti se volete conoscere la realtà, volete andare in dei luoghi dove la realtà assume delle forme straordinariamente teatrali, andate nei tribunali, andate nei tribunali, in particolare nei tribunali di provincia, perché vedrete agita la vita in forme teatrali. E mi sembra straordinaria come immagine. Ecco, questo processo, come lo hai affrontato? Ma senti, questo è un testo di Rita Frongia. Lei si è occupata prevalentemente di dimensioni così spettacolari rispetto al processo, anche i processi veri. Noi siamo anche andati ad assistere così a qualche processo qui a Prato, casualmente, dove si poteva entrare, eccetera. Devo dire, non siamo stati molto fortunati, perché ci siamo sempre molto annoiati, perché poi i processi hanno dei tempi molto noiosi. Quelli che noi vediamo in televisione sono montati, no? E quindi ci sono tutte le fasi salienti e quindi sono avvincenti, ma dal vivo, insomma, abbastanza noiosi. Comunque i riferimenti che abbiamo sono tutta una zona processuale reale, di processi che noi possiamo vedere anche così in televisione, recuperare, eccetera, eccetera. E poi anche e soprattutto la dimensione della commedia, cioè il processo come la commedia italiana lo ha sempre in qualche modo rappresentato. Questo è uno spettacolo ibrido, ma a grande prevalenza di commedia. Basta, questo non posso dire altro, perché non perché ci sia chissà quale cosa da scoprire, ma perché poi io lo devo fare, raccontarlo, sì, noi proviamo a fare, a attraversare un processo di fantasia con i crismi, con gli avvocati, i testimoni, il giudice, eccetera. Tutto molto ridotto come cast, diciamo, anche se siamo in tanti. Però diciamo che la dimensione è di fantasia, non è realista, non è un documentario, ecco, non è una cosa di documentazione. Ecco, non è una cosa di documentazione. Tu citavi anche i processi mediatici, no? Nell'immaginario di oggi uno pensa al processo penale, diciamo, perché chiaramente quello civile ha altre dinamiche, ma il processo penale, chiaramente chi non è del mestiere pensa ai processi penali trasmessi alla TV e il processo per eccellenza che è entrato nel nostro immaginario, soprattutto qui in Toscana, ma in realtà è stato un caso nazionale, è ovviamente il processo Pacciani, che vedo a un certo punto citato anche nel... Sì, perché è uno dei riferimenti. Ora poi Rita si è ascoltato, perché sì, esistono grandi fette di questo processo filmato e che si possono ancora vedere, ma soprattutto esiste tutto il processo audio, registrato audio. E ci sono delle cose bellissime lì, a parte i buchi, i tempi morti, le cose dove non succede niente, però ci sono cose interessanti, no? Tipo le cose rubate dai microfoni, l'avvocato che dice mi hanno rubato la cartelletta. Chi mi ha rubato la cartelletta? È stato lei, avvocato. Cioè si fanno gli scherzi, no? Allora tu scopri così una dimensione anche cinica rispetto a quello che sta accadendo. Cinica, perché comunque ciascun essere che sta lì dentro prosegue un suo vissuto privato e attraversa questo tempo come meglio può. Quindi sono tutte cose che a noi sono servite molto per costruire questa rete di relazione tra persone che stanno dentro a questo spazio esploso, enorme. Ecco, dicevi, una delle questioni fondamentali di questo processo è la discussione sulla follia, come la si chiamava, insomma sulla malattia mentale, sulla libertà di intendere e di volere. Sulla capacità. Sulla capacità di intendere e di volere. Ecco, cosa viene fuori in questo processo? Ebbè, viene fuori quello che è venuto fuori allora, cioè che è una materia labile. Allora addirittura, come ripeto, erano le primissime volte in cui si parlava di questa zona. E quindi, voglio dire, con grande fatica, questo viene fuori anche nel lavoro nostro verso il finale quando i due avvocati si incrociano le loro arringhe, dove uno dei due si dichiara in qualche modo perdente a priori in quanto difensore, così in senso generale, ampio. Difensore di un uomo che è già stato condannato a morte. Quindi succede quel che è successo, insomma, che niente, che poi è stato decapitato, giustiziato, come avevano deciso in precedenza. Ecco, c'è questa strana dimensione in cui c'è la percezione di non poter poi fare niente, in qualche modo, rispetto al non aggiungere cadaveri ai cadaveri, no? Se si vuole evitare di aggiungere cadaveri ai cadaveri è una cosa molto difficile, quasi impossibile. E anche oggi è così, credo. Ecco, insomma, il processo veramente è una forma drammaturgica, potremmo dire, straordinaria, è un dispositivo, quindi mi pare di capire che voi lo utilizzate, perché citavi appunto avvocati, giudici, imputati, testimoni, forse, quindi la forma, immagino, appunto, prenda tanto dal processo. E in effetti, come dire, quando si parla di processi in teatro vengono i brividi, perché naturalmente il processo è come fosse quasi la prima forma della tragedia, in fin dei conti anche l'Orestea ha come esito finale la costituzione di un'idea di giustizia, di un processo, quindi dall'origine del teatro si arriva fino ad oggi. Ma di solito il processo è in una forma tragica, cioè è una tragedia che si interroga su una verità, e il processo è la forma in cui si va a definire questa verità e i suoi relativi conflitti, perché naturalmente il processo è anche l'imposizione di una legge, quindi la legge degli uomini, la legge degli dèi e via di sé, la legge dei più forti, la legge dei più deboli, quindi con tutte le... Mi colpiva questa cosa, questo ribaltamento, che tu dicevi, ma il nostro riferimento è la commedia, quindi è molto, no, come fosse ribaltato. Perché la commedia? Per affrontare un caso tragico, diciamo. Adesso ti rispondo, però già stamattina mi hai ricordato che tra poco devo debuttare. Adesso mi dici l'Orestea, io scappo. No, perché naturalmente secondo me, in qualche modo, ciò che va privilegiato rispetto alla ricerca dell'accadimento del teatro è la relazione tra le persone, tra le persone che sono in scena, la loro vera relazione personale nella finzione, no? E questo, la commedia, è il terreno più straordinario per il gioco. Il dramma, come dire, il dramma, per non parlare della tragedia di cui io proprio non so, il dramma è una dimensione così, come dire, non so, io anche quello magari non lo frequento un granché perché mi trovo in difficoltà rispetto al gioco della finzione, mentre invece la dimensione della commedia è, secondo me, il modo per incidere in profondità è quello di stare leggeri su di un'apparente superficie. Non so, poi abbiamo dei riferimenti molto importanti, abbiamo dei film con De Sica che fa l'avvocato, insomma, abbiamo delle cose straordinarie rispetto al processo e alla commedia. Anche della cultura italiana, della nostra antropologia, no? Certo, certamente, certamente. Perché, come dire, l'avvocato è considerato il secondo mestiere più antico del mondo, quindi fa parte dell'antropologia anche del nostro paese, quindi, insomma, la commedia italiana è qualcosa veramente che è andata a costruire anche la nostra identità. Senti, vuoi dire qualcosa sulla messa in scena, qualche, non lo so, qualche anticipazione che ci puoi dare? Guarda, posso dire che sono molto contento di come si lavora poi lì al fabbricone, con i tecnici, con i ragazzi del Metastasio, si lavora benissimo e ci stiamo divertendo su due fronti. Ah, poi non ho citato Fausto Bonvini che è l'ideatore dell'apparato luminoso, diciamo. In scena non c'è quasi niente, la scena è completamente vuota, ci sono i tavoli degli avvocati, il tavolo del giudice, il tavolino del cancelliere e poi centralmente c'è la sedia dei testimoni, dove si susseguono i testimoni con i rispettivi interrogatori di accuse, difesa, eccetera, eccetera. Niente, cosa vuoi che ti dica? Basta. Vedremo degli straordinari attori. Ma questo sì, eh. E anche questa ricostruzione, questa storia, appunto il processo, grande curiosità di vedere anche come Rita Frongia abbia recuperato i documenti, li abbia ritrasformati, insomma. Sì, c'è stato all'inizio un lavoro di recupero di grosso materiale del dottor Clarus, che è stato uno dei periti del caso Wojtzec, quello originale, che ha contribuito naturalmente a farlo giustiziare, perché era un'autorità e dall'alto della sua autorità ha dichiarato in qualche modo che questa persona, quando ha ucciso, era nel perfetto stato mentale e non aveva nessun problema di natura. e naturalmente tutto si spostava su di un giudizio morale. Come succede? Come succede? Perché era uno perché? Allora perché beveva? Allora perché aveva il temperamento sanguigno caldo? Ma quelle sono questioni personali. Cioè, tutto si sposta, naturalmente, rispetto ad una dimensione mentale ha una dimensione così, morale, no? E si viene condannati per quello, per come ti comporti più che altro, no? Questo succedeva allora, diciamo, io non lo so oggi, ma non credo poi sia cambiate molto le cose. E niente, all'inizio lei ha, ci siamo con Barbara Wegel, che ci ha aiutato un po' a tradurre queste cose, però poi nel corso del tempo è rimasto veramente molto poco, per fortuna, nel senso che se un testo ha da essere originale, che lo sia, no? Poi nel tempo, nel pensiero, scritture, riscritture, cambia, sposta, leva, e ogni tanto qualche luce nuova ha portato poi alla fine a un testo davvero autonomo, originale, dove anche i documenti iniziali, quelli di Clarus, sono appena, appena citati in un punto o due. Benissimo, allora, l'appuntamento è per il 7 novembre, dal 7 fino al 17, l'orario è quello del fabbricone, quindi 20.45 per i giorni feriali, 19.30 il sabato, e invece la domenica replica pomeridiana alle 16.30 al Teatro Fabricone. Tutte poi le informazioni le trovate sul sito internet www.metastasio.it Dunque, grazie mille a Claudio Morganti. Grazie a te e a voi. In bocca al lupo e ci vediamo a Il Caso W. Speriamo, ciao. Grazie mille a Claudio Morganti.